Iniziamo a presentarvi questi ospiti, quindi per me è un piacere presentarvi innanzitutto Guido Stratta che è il responsabile sviluppo, formazione, recruiting del gruppo Enel. Benvenuto, prego. Guido Stratta ha una plurianale esperienza, solo proprio per i titoli, responsabile personale Italgas, responsabile sviluppo e poi responsabile delle relazioni industriali in Wind. Ha ricoperto moltissimi incarichi di prestigio nel gruppo Enel, è stato anche tra l'altro amministratore delegato di Enelsea e di Tresan e soprattutto è un grande motivatore. Benvenuto. Benissimo, passiamo a un altro ospite, Antonella Salvatore, professoressa della John Cabot University, una importante università internazionale di Roma. Ben arrivata, direttore del centro di alta formazione e avviamento alla carriera, quindi il tema del lavoro senz'altro è un tema che conosce molto bene, insegna marketing e retailing e tra l'altro ho scoperto che il 7 aprile, se ho capito bene, uscirà a breve il suo nuovo libro relativo alla cultura del lavoro in Italia e ha scritto in passato anche il manuale del retailing. Quindi benvenuta e grazie per essere con noi. Bene, proseguiamo. Un'altra gradita ospite, quindi chiamo sul palco Marina Montepilli del gruppo Generali Alleanza Assicurazioni. Oltre a essere oggi responsabile delle risorse umane è stata per molti anni giornalista del Sole 24 Ore, direttore anche delle operations editrice e poi in generale Italia è stata anche responsabile della funzione learning e people value and engagement e poi ha ricoperto anche il ruolo di diversity manager, quindi un'altra importante competenza. Bene, poi invece passiamo al Klaus Algeri che è il presidente della Camera di Commercio di Cosenza. Eccolo qua. Imprenditore, quindi sarà interessante sapere anche la sua opinione di uomo profondamente coinvolto nel mercato, vari settori, opera nel settore assicurativo automobilistico, turistico, vari incarichi, presidente della Confcommercio di Cosenza, presidente dell'azienda speciale camerale Promo Cosenza e vicepresidente nazionale di Feder Motorizzazione. Corretto? Benissimo. Bene, poi abbiamo un altro gradito ospite, un altro importante manager della comunicazione, Oscar Montigny di Banca Mediolano, direttore comunicazione e marketing, esperto di comunicazione. Prego, dove volete voi? Assolutamente per me va benissimo e quindi molto importante, diversi suoi ruoli e quindi sarà un piacere averlo qui con noi, speaker internazionale, autore anche di molti libri e poi dopo le chiederò il suo concept di Economia 0.0 che cerca di coniugare un po' da una parte la comunicazione e dall'altra la filosofia e l'arte e la scienza. Allora, io farei una cosa molto informale, visto che credo sia più importante mantenere un rito, vi chiederei di prendere magari due microfoni, così almeno possiamo fare un giro di campo abbastanza rapido, quindi vi chiederei degli interventi abbastanza rapidi per poi fare un po' un ping pong. Allora, partiamo dal fattore umano, quindi il fattore umano come elemento centrale della formazione, ma in un contesto che sta cambiando molto, quindi abbiamo da una parte l'intelligenza umana, dall'altra l'intelligenza artificiale, quindi le macchine sempre di più diventano un po' intelligenti e quindi vorrei capire un po' la vostra opinione, cioè se la vivete come una minaccia, come un'opportunità, c'è chi pensa che le machine learning sostituiranno molti mestieri, che alcuni formatori diventeranno formatori di robot, Il fattore umano è abbinato all'innovazione, ai metodi nuovi, non ti fa paura, se all'interno di questi sistemi c'è il fattore umano. Noi nel fattore umano, a meno io sia da imprenditore, ma sia con questa nuova carica di tre anni all'interno di un sistema pubblico, ha molto funzionato su questo. Io non riesco a spiegarlo, forse bisogna ascoltare e far intervenire più i dipendenti che in qualche modo poi loro l'hanno eseguito, ma con, non dico un ordine, che di eseguire un ordine, ma se era un ordine sbagliato avevano il diritto, ma il dovere di contestarlo e di capire che non andava bene. Personalmente io, ma soffermo al sistema camerale perché penso che sia molto importante e molto più difficile, e lo dico da imprenditore e privato, antare nel fattore umano e avere un successo in un ente pubblico. perché è molto più facile intervenire con un'azienda sul privato, molto più facile perché c'è l'ordine, c'è il fatto che deve seguire quell'ordine e in qualche modo si adegue, si adegue un po' non tanto in un modo così facile, però in qualche modo si deve adeguare. Voi immaginate tutto questo, ne parleremo magari dopo, in un ente pubblico, nel privato è facile, dove gli obiettivi li raggiungono e si arriva, sento qui nel fattore assicurativo e viviamo solo di questo, per non dire nel fattore dell'auto, ma in un ente pubblico dove tutto questo non c'è, dove non c'è la criminalità, dove tutto questo non puoi darle quanto tu vuoi, anzi molte volte poi vengono i vari ministeri, non dico le sighe e ti fermano pure, ti fanno pure pagare, beh è molto più difficile e averlo raggiunto è la più grande soddisfazione anche più che altro di tutto quello che io ho avuto come successo come privato. Grazie. Professoressa? Allora io penso che da un punto di vista di digitalizzazione, quando si parla spesso di digitalizzazione, la preoccupazione di tutti è le macchine sostituiranno gli uomini e quindi indubbiamente questo accade anche nell'ambito della formazione. In realtà credo che la capacità del formatore stia nella capacità di tirare fuori le soft skills e le capacità e le competenze trasversali e comportamentali di coloro che sono in un'aula e tutto questo le macchine non possono farlo. Quindi già da questo punto di vista il fattore umano è quindi fondamentale da un punto di vista di formazione perché una macchina mai potrà in questa maniera tirare fuori anche il potenziale di coloro che tu hai davanti. Io mi occupo di formazione e in particolare di formazione ai giovani e soprattutto per loro. Quindi se da un lato tutto quello che è digitale, tecnico, tecnologico può sicuramente velocizzare il processo di formazione e quindi la crescita delle hard skills, cioè di quelle competenze tecniche, indubbiamente invece il fattore umano e quindi la abilità, la capacità che il formatore poi ha in aula di aiutare a tirare fuori. Quindi anche la conoscenza acquisita non è solo quello che si insegna, ma è come si va ad insegnare e soprattutto in che maniera poi si riesce a far tirare fuori da chi ha vissuto l'esperienza formativa quello che effettivamente è stato messo dentro. Il formatore non è una macchina e quindi trasferisce conoscenza, apre la testa, passatemi il termine, mette dentro conoscenza e poi la richiude. Non è uno schermo, quindi in questo senso ricordo che il fattore umano sia fondamentale. Le posso chiedere, visto che lei ha contatto tutti i giorni con i ragazzi, in un'università dove ci sono ragazzi italiani, ragazzi di altri paesi, se è anche un fattore culturale, cioè se in qualche modo noi italiani la viviamo in maniera un po' diversa da altri paesi, questo rapporto con l'intelligenza. Io credo che questo accomuni, io opero in una istituzione che vede circa 70 nazionalità rappresentate e credo che questo accomuni tutte le nuove generazioni, cioè la necessità di essere guidati e di essere aiutati nel tirare fuori queste competenze di cui parlavo prima, spesso anche l'incapacità dei giovani americani, italiani, sudafricani di tirare, di individuare anche i propri punti di forza o di capire quali sono le proprie debolezze, come andarsi poi anche a presentare ad esempio in un colloquio lavorativo, quindi ad un potenziale datore di lavoro che cosa andare a mostrare, perché il datore di lavoro oggi non ricerca più solo la competenza tecnica, ma cerca soprattutto nei giovani, poi che di esperienza tecnica ne hanno ben poca, cerca invece proprio questo tipo di attitudine. Quindi assolutamente sì. Grazie. Grazie. Vista l'ora permettetemi un'immagine, lancio una sfida fattore umano-intelligenza artificiale. Voi immaginate un elenco di stelle della galassia ordinate dalla intelligenza artificiale per grandezza, per luminosità, per gravità, come fosse un pallottoliere. Poi giratevi e guardate la Via Lattea e guardate cos'è. Ecco, la passione umana, la capacità di interpretare i dati strategici, di averli digitalmente, è questo. Il nostro fattore competitivo è questo. L'intelligenza artificiale, quella galassia lì, non la sviluppa, la enumera. L'essere umano lo dipinge, la tratteggia. Se le pizze verranno fatte da robot e consegnate da macchine senza pilota, l'uomo, la donna, si prenderanno il gusto di mangiarsele dietro un cespuglio, magari non dico l'altro pezzo della battuta perché purtroppo è accaduta, e cioè ci sono stati incidenti, se no, perdonatemi, dicevo, ci resta solo di farci investire mangiando la pizza, e quindi è l'errore, l'altra frontiera meravigliosa, su cui l'essere umano crea innovazione. L'ultimo tema è che, se io dico a una donna, ti amo, e l'algoritmo digitale dice l'AMI, e il body language non lo sta dicendo. E dato che il 70% del fattore umano è body language, prima che l'intelligenza artificiale interpreti tutti i body language, abbiamo tanto da lavorare. Grazie. Allora, il fattore umano, io sono convinta che non verrà superato dall'avvento della tecnologia, la tecnologia può inquietare, può spaventare il linguaggio, crea confusione. Secondo me il ruolo del formatore è quello comunque di continuare a valorizzare l'apporto umano, semplificando anche il mondo intorno, per cui rendersi un canale di comunicazione, proprio di traduzione tra il mondo esterno, l'impresa, i bisogni, e in più il formatore in quest'epoca deve imparare ad ascoltare, per cui veramente ad ascoltare e coniugare la realtà locale, i dipendenti e le strategie dell'azienda. Grazie. Grazie. Mi tocca fare il cattivo del gruppo. Meno male, meno male, sennò... No, no. Per le esperienze fatte più o meno recentemente, parlo degli ultimi tre anni, io mi sono imposto di, che sono un inguaribile romantico e ottimista, di essere un po' meno romantico e un po' meno ottimista. Lo resto a lungo termine, però è un termine che non contempla la durata delle nostre vite, né biologiche, né di individui, né di aziende, quindi dimentichiamoci il lungo termine, i 50 anni, i 60 anni. Sono mediamente ottimista e romantico sul medio termine, sono abbastanza pessimista sul breve termine, rispetto alla nostra capacità di gestire quella che è in questo momento una curva esponenziale della tecnologia nella dimensione della pervasività che sta avendo nelle nostre vite. Girando un po' il mondo, incontrando esperti di tecnologia, di innovazione, anche in luoghi abbastanza spinti, mi sono anche imposto di diffidare del secondo me domani sarà così, secondo me domani accadrà, secondo me domani non accadrà, perché una curva esponenziale per sua natura, e noi siamo in un momento di crescita esponenziale, per sua natura non ci consente di essere prevista, noi per logica neurologica procediamo secondo logiche lineare, per cui non siamo capaci come essere in questo momento di predire un futuro su una scala esponenziale. Detto questo, io dico, secondo me invece accadrà l'esatto opposto di quello che è stato detto, cioè accadrà che le macchine saranno molto prima di quanto ci immaginiamo, pronte a sostituire tutti noi, perché in una logica di autoapprendimento la macchina sarà più capace di noi di organizzare quella complessità romantica della Via Lattea, però di contro a noi resta un vantaggio, che le macchine sono un programma, noi restiamo un progetto. E quindi sarà facoltà nostra farci le giuste domande per far sì che accada ciò che è bene che accada, e per evitare che accada ciò che non sarà bene che accada. Perché anche la costruzione di un algoritmo o la automatizzazione di un processo che va dalla catena di montaggio, il più semplice, alla produzione di relazione empatica con un altro essere, che è altrettanto riproducibile, a mio parere, dipenderà da come un essere umano disegnerà quell'algoritmo. Troppi uomini oggi, secondo me, sono affascinati dall'idea di poter controllare e gestire tutto, troppi pochi sono rimasti quelli che ancora vogliono lasciare uno spazio di libera esperienza e interpretazione. Non so chi prevarrà. Se prevarranno gli uni, ci possiamo salutare oggi, perché è già scritto che saremo tutti inutili. Se prevarranno gli altri, credo che sarà il miglior momento della nostra specie per essere vivi, perché entreremo definitivamente in una dimensione nuova per la nostra specie, di cui non è dato sapere quale sarà l'esperienza, se non il fatto che sarà molto diversa da quella che per secoli è stata l'esperienza che abbiamo vissuto come genere umano fino ad oggi. C'è una frase che mi è piaciuta nella sua intervista che secondo me è abbastanza, come dire, ci sta sulla riflessione che stiamo facendo adesso. Lei ha dichiarato dobbiamo riaffermare il primato della coscienza sulla tecnologia per preservarci da una tecnologia incosciente. Ce l'ha illustrato un po' di più? Comunque è una bella frase. Ci vuole un po' di insano coscienza. Sono sicuro che l'ho preoccupiato. Sì, mi è stato... Anche se qualcun altro di voi vuole commentare. No, l'avevo detto io. Allora, vedi, benissimo. Chiedo scusa del copyright. Vado un fatto che lui ha fatto il pessimismo della ragione, io invece dimostro l'essere umano, ottimista della volontà. Non l'ho detto io, ma posso dire un'altra cosa? Posso? Così lui è rifiata, perché siamo una squadra. Questa è anche formazione. Non volevo dire un'altra cosa. Posso? Assolutamente. Sempre butto. Io sono ottimista, quindi insisto nella mia logica. Allora, parto dai numerici, perché un ottimista viene definito, se non un creativo, visionario. Qual è il mondo che accetta di non avere consumi perché produce robot che non consumeranno più e anche, torniamo a Olivetti, ma parliamo, io sono torinese, anche agli agnelli che erano un po' meno illuminati da un punto di vista sociale, ma a un certo punto si fermarono e dissero occhio, aumentiamo i salari agli operai perché se no il conflitto sociale, io penso ci sarà una governance intellettuale in cui l'automazione toglierà i lavori brutti, migliorerà la predittività delle cose, ma per necessità economiche di sistema mondiale si eviterà di andare a un conflitto che poi è latente. Oggi nove persone detengono l'80% della ricchezza del mondo. Zuckerberg. Cioè, bisogna stare un po' attenti. Hanno un PIL che è superiore a quello di un paese. Allora, io penso che gli equilibri di poteri, quindi non è tanto la strategia, perché qui noi facciamo i futurologi, tanto fra 30 anni nessuno ci sconfesserà, no? Bello il futurologi. Ci sarà un mondo di robot che si baciano e si riproducono e le donne saranno diventate dei meccanismi automatici. Lo dici, fra 30 anni sei le Cayman e nessuno ti contesta. Credo sarà l'economia a gestire l'equilibrio tra questa cosa. Grazie, grazie. Mi sembra un intervento... Vuole dire... Rispondo? Ah, sicuramente. E' proprio perché sarà l'economia, e sottoscrivo tutto ciò che è stato detto, essendo noi degli animali economici, torna centrale il ruolo della coscienza dell'individuo. E la coscienza dell'individuo, secondo me, è strettamente correlata alle domande che questo individuo si fa. L'economia, io da non economista che lavora nell'economia da 20 anni, ho scoperto, ed è stata per me un'epifania, nonché un momento di ossigenazione, perché ero un po' compresso nel mio ruolo frustrato da non economista lavorando in una banca, sono andato sul vocabolario e ho scoperto che l'economia è, testuale, arte di reggere e bene amministrare le cose della famiglia e dello Stato. E ci sono state due parole che mi hanno sorpreso in questa definizione, la parola arte e la parola bene. Perché se avessero detto economia, la disciplina di reggere e amministrare, le cose della famiglia e dello Stato, nessuno avrebbe potuto obiettare. Però è interessante che l'economia sia considerata etimologicamente un'arte, perché l'arte per sua natura produce bellezza. E la bellezza per sua natura è la migliore delle formatrici, perché educa al bello. Dopodiché c'è il concetto di bene. Un'economia o è bene, o non è un'economia. In un'economia dove otto persone, nove, hanno il 50% della ricchezza pari alla metà più povera, ma soprattutto dove l'un per cento del pianeta possiede una ricchezza pari al 99 restante, perché questo è un dato ancora più eclatante, noi dobbiamo farci una domanda, perché siamo comunque un pianeta che negli ultimi dieci anni ha accumulato 70 miliardi di dollari di debito pubblico, il cui totale è 215 miliardi, quindi un terzo in dieci anni, che è pari al 325% della nostra capacità di produrre ricchezza, cioè prodotto interno lordo. Cioè noi siamo un sistema economicamente fallito. I dati economici, macro, dicono che il nostro sistema sociale economicamente è in banca rotta. quindi bisognerà portare una soluzione, i robot non consumeranno, il problema del futuro sarà l'allungamento della vita comparato a l'automatizzazione dei lavori che levererà un sacco di tempo alle nostre vite che oggi tutti vorremmo quando ci scopriamo di avere un sacco di tempo lì senza avere alcun che da fare, ma dovendo noi consumare perché altrimenti il sistema non regge, non so cosa accadrà. Torno quindi alla coscienza. O ci sarà qualche d'uno illuminato, a quel punto è meglio una monarchia di una democrazia perché statisticamente è più probabile che si illumini uno rispetto a che si illumini un popolo, quindi non c'è politica, ma è un dato aritmetico, non è politica la mia affermazione, è statistica. Stai seguendo le linee di Locke. No, sto seguendo le linee del buonsenso, dicendo coscienza al centro, facciamoci delle domande, noi continuiamo a delegare alle macchine le risposte, perché siamo degli esseri pigri, perché nessuno di noi naturalmente si espone alla fatica, tendiamo a domande impegnative, sono domande che impiegano tempo, fatica, e sono domande esistenziali, quelle che ci faranno costruire delle macchine utili e non delle macchine che ci elimineranno. Quindi è viva la centralità dell'individuo, cosciente, consapevole, non pigro. Grazie. Parliamo del coraggio della scoperta, visto che era l'altra metà della luna, quindi come in qualche modo la formazione può incrementare l'impatto del fattore umano, ma per infondere alle persone un po' il coraggio di osare, di affrontare nuove sfide, non voglio fare la battutaccia, coraggiosi si nasce o si diventa, però in qualche modo la complessità può portare smarrimento. Vogliamo commentare questa parte? Adesso, dopo gli interventi precedenti, diventa complicato spiegare come il formatore potrà disegnare il futuro, al di là di indurre coscienze. Sì, sì, no, infatti ci impegniamo, iniziamo già da adesso. Le donne sono esseri superiori, ci ha seduto. Quindi, se coraggiosi si nasce o si diventa. Secondo me anche il coraggio si allena, quindi a prescindere che uno sia consapevole di averlo dalla nascita o meno. Fare formazione in questo momento, allenare al coraggio, è un ruolo un po' diverso ovviamente rispetto al passato. C'è una velocità, le aziende corrono veloci, ti chiedono tante energie, sicuramente c'è un tema di poter allenare una vista, una coscienza, per cui abbinare tutti e due questi temi non è semplice. Nel gruppo generale comunque abbiamo sperimentato alcune forme di allenamento al coraggio, chiamiamolo così, a partire dalle stanze di semplificazione che sono dei laboratori creativi, dando degli strumenti come il design thinking, che comunque è un metodo di creatività. Per cui, attraverso un metodo che ti affianca, provi la creatività fuori dal tuo ruolo, fuori dalla gerarchia abituale, fuori da quello che è la tua quotidianità. E poi generi contaminazione uscito da queste stanze di semplificazione, verificando anche le competenze. È un allenamento, è un modo di spronare un pensiero diverso che se no replichi uguale a te stesso in un ambiente che ti chiede sempre le stesse cose. Grazie. Darei parola anche ad Antonella Salvatore. Allora, io ovviamente riporto a quello che faccio non essendo né futurologa né tutologa di sapere. Innanzitutto andrei sul significato della parola coraggio che nel mio lavoro, dato che mi occupo di avviamento alla carriera dei ragazzi e quindi anche di prepararli al futuro, per me il coraggio è aiutare i ragazzi a prepararsi alle sfide future che significa a quello che non so effettivamente neppure io e come? Innanzitutto aiutando i ragazzi ad esempio nel nostro caso nella autoconsapevolezza o nella conoscenza di sé. Molto spesso anche quando si parla di avviamento al lavoro o di avviamento alla carriera per i ragazzi si guarda sempre fuori. Che posizioni ci sono? Benissimo, candidati. Per me il coraggio nel mio lavoro è far guardare e invitare i ragazzi a guardarsi dentro prima che fuori. Cioè che tipo che cosa pensi di poter fare e anche che tipo di contributo di valore pensi di poter dare alla società perché tu stai per entrare in una nuova società sarai la forza lavoro domani e quindi devi capire chi sei e capire quali sono le tue le tue forze quali strumenti potrai mettere a disposizione quindi insomma il coraggio per me nel mio lavoro perlomeno è questo e penso quindi concordo che vada allenato si allena assolutamente. il progetto open camera cosenza lo possiamo definire un progetto coraggioso per il contesto per lo spirito come l'avete fatto lei ha dichiarato il coraggio è tutto quindi sono proprio curioso di ascoltare un po' i suoi commenti sull'importanza del coraggio l'amico Medolano diceva devo rompere gli equilibri Oscar io ti voglio bene ma tutto ciò che avete detto non ci ho capito niente mi dispiace l'altra parte della metà da imprenditore l'ha completamente rifiutato io vivo in un altro mondo ma non soltanto io penso pure questo signore Ranjes Simet Politano che sono degli imprenditori che il coraggio è quando si pigliano la responsabilità senza averla studiata per averla studiata non significa essere stato all'università e quando ti si capita un problema così grave di affrontarle e pagare ma non con il posto di lavoro Enel budget attenzione che chiudo la luce scherzo scherzo volevo crearvi un posto da prima aprile non più è già una fortuna da prima aprile non più scherzavo quindi budget budget gas vivo a Cosenza non ho bisogno del gas quindi è il problema di Milano la risponde è tutto è molto facile stare lì anche perché sono un assicuratore quindi so quanto significa avere il budget mi butto ho coraggio devo licenziare devo fare questa campagna male che va perdo il posto non guadagno tutto ciò immaginate un imprenditore che se la deve creare deve trovare le risorse deve affrontarlo allora io preferisco che i metodi li studiate voi perché noi li inventiamo però posso riportarla questa è la cosa non è polemica vi voglio fare rifletto su tutto ciò quindi su questo è tutto abbastanza facile perché la rappresentanza di quelle che si ha è molto forte secondo me lui mi ha sfidato e quindi il coraggio io non ho problemi 10.000 persone 8.100 di dire beh rompiamo un po' l'equilibrio è bello così confrontarci però torniamo alla domanda ecco ma perché non hai trovato la domanda con loro però perché a me piace animare il dibattito se no altrimenti diventa non sto animando più di questo mi taglia il gaz parliamo ah questo è un denunio no prego mi sembra animato non il dibattito non mi scherzo ma scusa vabbè dai posso dire una cosa torniamo ai giorni anche perché tu ti fa formazione e quindi si è abituato io ci ho mi taglio un po' il microfono sta già tagliando la corrente secondo me allora stai nei tempi insomma ma l'ho tagliata perché è moroso no non sono moroso sono nei tempi ha parlato di più allora non è questo il coraggio torniamo alla domanda il coraggio è l'open camera di aver affettuato delle cose così importanti che da imprenditori ho detto è più importante ed essere soddisfatti in un ente pubblico perché perché io da imprenditore dare delle obiettive mi è facile metto giù della promozione metto giù del denaro e quindi in realtà me li scelgo io come voglio perché se un venditore non mi sta bene questo mediano me lo insegno io lo cambio fino a quando trovo dopo averli fatta la formazione quindi vengono dalla professoressa dall'altra e quindi li facciamo tutta la formazione ci facciamo dire le cose e gli spieghiamo come le vogliamo noi fatelo in un ente pubblico dove in realtà hanno quello stipendio non puoi dare incentivi non puoi licenziarli e io vi sfido a convincerli ad arrivare ad open camera che oggi grazie a voi oneratissima avere il premio di metti ma siamo stati anche all'Ox siamo inseriti all'interno di questo con tutto il successo che noi abbiamo avuto noi abbiamo invertito il coraggio di poterlo fare e contro tutto il sistema anche culturale con i sindacati che ti dicono di no ma la capacità di convincere che quello era un percosto a dirci tutte le testiche storiche CGL CGL si invertire la piramide non c'era su il presidente va bene mi faccio finire però poi gli dà la parola quanto vuole sto zitto ma invertire la piramide e mettere il fattore umano e mettere il fattore umano sulla piramide quindi le imprese con i dipendenti e raggiungere tutto ciò penso che sia un successo molto più difficile di fare l'agente assicurativo il broker o il venditore di auto sono concessionari di auto con un votrat non è differente oppure sul turismo ho detto è molto più difficile realizzarlo lì infatti la mia domanda era proprio volevo dare la possibilità proprio di siccome l'obiettivo se ho capito bene era quello di smantellare la gerarchia e il sistema a fronte di un'organizzazione più snella prego dottor Tratta io volevo tornare ai giovani che hanno un vero problema perché ci sono tante qualità diffuse una difficoltà di impiegabilità io credo che alla fine noi il sistema umano lo infiammiamo liberando desideri delle persone di partecipare a questa sfida allora quello che penso è che i formatori e qui siamo nell'ambito di un'organizzazione straordinaria debbano connettersi alla creazione di valore reale nel fare cioè noi eravamo fanatici del ROI della formazione oggi probabilmente si deve parlare della creazione di valore attraverso la formazione mi fa piacere il collega imprenditore che tocca un tema in cui posso dirla la formazione troppo spesso è visto come come dici a tuo posto darti del tu grazie diceva uno stimolo ci porta alla concretezza dice ma dove è il valore dove è il reddito dove è l'EBIDA c'è ancora un po' l'idea che sia fuffa la formazione che sia un momento di turismo aziendale io penso una cosa che il profilo da offrire ai nostri giovani è entrare nell'education come cogliendo quello che è definito all'estero il job crafting cioè l'individuo combatte per delle opportunità può crearsi delle relazioni che lo potenziano la formazione lo potenzia la percezione che ha del proprio lavoro sana lo potenzia quello che dice costruisco una cattedrale rispetto sto spostando dei sassi e sicuramente così con questo propedeutico diventa impiegabile allora l'imprenditore uno che racconta così l'essere operaio lo vede come un valore noi dobbiamo aiutare i giovani a avere occasioni di lavoro a formarsi una mentalità non delle vittime e a potenziarsi nell'attrattività del mercato del lavoro che è vero è selettiva ma a quel punto convinceranno anche l'amico imprenditore a dire mi dà valore uno così perché mi racconta una storia nel tempo che crea clienti che crea continuità grazie allora torniamo al focus della formazione oggi fattore umano fattore non umano e se e come in questa società sempre più liquida la formazione cambia in molti e credo anche alcuni di voi parlano dell'importanza di evolvere quindi da una formazione tradizionale di aula a una formazione esperienziale quindi meno aula più laboratorio meno abbonati in prima fila e più diciamo testimonianze piacerebbe ascoltare da ognuno di voi delle vostre esperienze cosa pensate se ci sono già in atto dei progetti verso questo mondo di una formazione sempre più esperienziale prego comincio io magari posso raccontare di questo progetto di uno dei progetti che assolutamente vincitore del premio perché allora uno in particolare che è ha il titolo Made in Italy di Italian Business Environment cioè parla praticamente di far capire l'Italia agli stranieri perché molto spesso siamo conosciuti nel mondo grazie non so se dire grazie ma insomma attraverso direi stereotipi e pregiudizi e quindi il corso è nato con l'obiettivo di far comprendere l'Italia far comprendere la cultura italiana e la cultura del lavoro di fare lavoro in Italia e questo come appunto diceva poco fa anche grazie all'esperienza grazie alle testimonianze quindi tanto per fare degli esempi ho avuto in aula una società che si occupa di Made in Italy che quindi ha portato ha fatto capire che cosa significa fare Made in Italy in Italia con tutte le difficoltà i costi di mantenere il prodotto in Italia e di portare poi questo prodotto in giro per il mondo intervenuta un'altra società che si occupa di eventi e di organizzazione di eventi nelle città italiane e in quelle europee la quale società ha portato e ha spiegato ai ragazzi le difficoltà e la burocrazia di fare gli eventi in Italia e la facilità con cui questi eventi sono fatti invece in giro per l'Europa altra testimonianza di un avvocato che ha parlato delle recenti norme dei recenti cambiamenti in materia di lavoro facendo poi un paragone con dei paesi nord europei ulteriore testimonianza di una società di risorse umane che in Italia ricerca talenti e trova quindi propone posizioni di lavoro che riceve dalle aziende e le offre quindi con tutte le difficoltà anche in questo caso ecco l'obiettivo quindi concordo assolutamente non è più non può essere più l'aula sterile diciamo teorica dove il discente è una parte passiva ha bisogno invece chi sta dall'altra parte di sentirsi coinvolto infatti non l'ho detto io ma si diceva appunto coinvolgimi ed imparo mettimi dentro e cominci apprendo più facilmente quindi concordo assolutamente grazie molto Arazzo noi su 300 top manager di gruppo in 40 paesi avevamo il problema di pensare a un sistema di integrazione e di scambio della conoscenza abbiamo abbandonato completamente i corsi istituzionali e abbiamo lasciato i colleghi scegliere una settimana di affiaccamento di job shadowing con un altro collega nel mondo che avesse una zona di interesse anche in un altro mestiere in un altro paese e devo dire questo job shadowing in cui il collega vive da shadow una settimana di fianco il direttore marketing che va dal direttore del personale di un altro paese vede cosa succede gli dà consigli si porta via idee contaminazione cultura generativa è stata una cosa potentissima quindi stiamo abbandonando l'aula diamo dei micro learning di stimolo di pillole digitali e poi imprenditorialità un po' della persona affiancamento e lo vogliamo estendere ai giovani adesso facendolo tra un giovane inserito e un manager per cercare di fare anche un po' di reverse mentoring è potente grazie anche io condivido che l'aula progressivamente debba essere abbandonata anche per una formazione che sia anche emozionale oltre che esperienziale perché per attivare l'ascolto attivo per cui quello di voler ricercare l'informazione comunque bisogna attivare anche dei canali emozionali questa è stata una delle logiche che ha anche guidato la costituzione dei tam tam talks di generali a livello di country nata in realtà da un bisogno manifestato dai dipendenti per cui c'è stato attraverso le community scelta un'idea che era simile ai TED talk e si sono creati questi eventi di sei edizioni coinvolte circa 6.000 partecipanti per cui con tanta passione con relatori che andavano da premi Nobel innovatori giornalisti ma in più con dalla seconda puntata i rookies i rookies chi sono scelti di volta in volta un dipendente formato con percorsi di storytelling affiancato quindi ai grandi relatori e il principio è lo sharing delle esperienze ma in più una nuova vista cosa accade fuori cosa accadrà domani per risvegliare un interesse a pensare in un modo diverso ad aprire gli occhi grazie allora secondo me una delle sfide che il mondo della formazione dovrà affrontare molto presto è quello di evolvere da una dimensione formativa a una dimensione educativa questo perché non si tratta più di insegnare ad altri delle cose ma si tratta di creare le condizioni migliori affinché l'altro possa essere ciò che già è almeno in potenza no proprio anche qua scusate a me piace giocare con le parole una cosa è formare una cosa ex duce tu non puoi imporre a uno una cosa che costui non è però puoi creare le migliori condizioni affinché costui possa essere il meglio di ciò che in potenza già è e non è non è banale perché fino a ieri io appartengo io sono del 69 appartengo a una generazione professionale che più o meno ci accomuna tutti e mi ricordo ho l'informazione frontale però uno che sa delle cose te le trasferisce poi tutta l'evoluzione di questo anche molto nobile fino ad arrivare alle forme più evolute ma alla fine io credo che adesso si debba ribaltare deve diventare il formatore deve mettersi al servizio dell'altro creando delle condizioni affinché l'altro ripeto divenga ciò che in potenza è se poi questo divenire non fosse coerente con il ruolo che occupa bisogna avere il coraggio di non fargli svolgere le mansioni che fa e così come nella società civile il ruolo dell'insegnante purtroppo è stato ridotto ai minimi termini per valore sociale parlo proprio degli insegnanti delle scuole dei professori di università è in realtà l'unico vero ruolo centrale di una società civile appena dopo quello dei genitori così nell'azienda dovrebbe essere tutto il sistema educativo purtroppo la formazione è una delle prime voci che si taglia ma perché non c'è cultura in questo senso dopodiché secondo me la vera educazione è l'educazione ai valori trasferite le conoscenze trasferite le competenze o noi ci educhiamo ai valori o se no non ci sarà più conoscenza e competenza che sarà un elemento competitivo domani anche perché è l'unico territorio nel quale è la vera sfida o tu sei quei valori o tu non lo sei in termini di conoscenza si possono acquisire cose in termini di competenza si possono sviluppare skill in termini valoriali la sfida è più complicata e non è un caso che sia una sfida che anche pochi vogliono cogliere perché se ti sfido sui valori io cosa faccio se sono forte vinco quasi sicuro proprio anche un rischio enorme perché se io sbaglio offrire un prodotto un servizio ti rimborso ti faccio il customer care ti do l'assistenza meno male il patto tra domanda e offerta è risolvibile se io prometto un valore addirittura dicendoti che lo incarno e poi io non sono all'altezza di questa promessa si brucia tutto come dice lui cioè il tema del trust oggi è centrale quindi se da un lato ti dico buttati sui valori anche da uomo di comunicazione che è un'area inesplorata dove puoi essere vincente dall'altro ti dico anche starne lontano se tu non sei quella cosa perché se tu non sei quella cosa non ti verrà data al mercato una seconda chance noi operiamo in un settore molto compromesso in questo loro operano in un settore legato al tema della sostenibilità dell'ambiente che non è quello dei verdi che dicono non scavati il buco nella montagna qui il pianeta va a rottoli quindi si devono fare delle cose adesso l'economia la finanza l'ha inquinata va a rottoli o fai delle cose adesso o noi non ce ne veniamo fuori ed è un tema della nostra generazione i famosi millennials che dicono voglio essere impiegati in un'azienda che abbia un impegno civico è una domanda forte che ci stanno facendo come aziende gliene frega un po' meno dello stipendio non dico niente se no ci racconteremmo le frottole ma hanno bisogno di sentirsi parte di un progetto che incida sulla collettività perché loro sono nati in un mondo dove c'è un'isola di plastica grossa come l'Europa centrale che galleggia nell'oceano pacifico fatta di un materiale plastica che è stato inventato tra gli anni 30 e gli anni 50 da un italiano la nostra generazione questo problema non l'ha mai avuto i nostri nonni non sapevano manco cosa fosse noi abbiamo un gap neurologico come manager di aziende abbiamo prodotto il problema la scienza sta dicendo che non abbiamo il programma per risolverlo perché appartiene a un'altra generazione è un dato curioso che la scienza sta mettendo a fattore comune con la filosofia e con l'economia quindi il ruolo dell'educatore è centrale chi va in aula è centrale concludo con un esempio che spero anzi sono certo che offenderà qualcuno nella sala io ho studiato la PNL no? potete immaginare cosa possa significare per un venditore che conosce la programmazione neurolinguistica no? che è una scienza fantastica peccato che nasca da Milton Erickson e poi Richard Bundler e John Grinder quindi arriva da una disciplina molto lontana che aveva altri scopi io perché non amo importare la PNL in azienda e diffido al farlo perché o sono certo e chi sono io per giudicare un altro che tu quello strumento lo sai usare per il bene dell'insieme tuo e cliente o se no ti sto mettendo in mano è come mettere in mano un mitragliatore o un bambino nel dubbio ti dico impara l'italiano poi pensiamo alla programmazione neurolinguistica forse c'ho meno nemici di quello che credevo perché poi se vai a casa della gente e tu gli debba vendere una macchina un contratto con voi o un prodotto finanziario e sei anche un mago della comunicazione attenzione cerchiamo di essere tutti delle brave persone non ci serve la PNL per essere una brava persona la PNL serve per fare clinica intervento psichiatrico è un'altra cosa torniamo quindi a chi mandiamo nelle nostre aule ad essere modello di vi lascio con un'immagine intanto ho avuto un sacco di tempo io lo so spesso quando vado in università quando c'è il tema delle macchine e l'uomo noi siamo più o meno tutti della generazione che aveva avuto la fortuna di vedere Piazza Tiena Mena alla televisione ok la ricordate l'immagine c'è un momento incredibile di quella storia quando quel signore si è messo davanti al carro armato ok ad un certo punto il carro armato cosa ha dovuto fare esatto l'uomo è onnipotente se ha uno scopo anche le macchine si devono arrendere a quella cosa perché l'altra macchina era guidata comunque anche quella da un uomo ed era evidente che in quel rapporto quello era inerme no l'uomo ha vinto ma c'era uno scopo che non è la vendita di una pollizia allora perché dico perché l'educatore formatore deve essere per primo un modello non può più essere uno che sa un sacco di cose deve essere deve sapere incarnare quello che sta nascosto in quelle cose che insegna se no domani arriverà una macchina che insegnerà le cose perfettamente e chi se ne frega di uno grazie grazie mille è un peccato perché il tempo vuole abbiamo cinque minuti però io c'ho un'altra domanda che vi voglio fare e vi invito magari in questo caso alla brevità però credo sia interessante ascoltarvi spesso si parla anche di storicamente molte scoperte molte innovazioni avvengono attraverso per caso Cristoforo Colombo e company questa felice scoperta per puro caso quindi imparare sostanzialmente dagli errori quanto diventa sfidante per un'azienda che qualche volta non è facilissimo che ammetta i propri errori quindi un approccio positivo all'errore volevo sapere un po' un vostro un vostro commento partirei appunto proprio da Guido per chiedergli perché ho visto che voi avete un progetto che sembrerebbe proprio che parte da questo se ce lo puoi raccontare e poi passiamo in dieci secondi il progetto è bellissimo si chiama My Best Failure cioè di un errore che hai fatto in modo da non replicarlo più e metterlo a disposizione della community è bello è bello io vi ringrazio però dato che sono tra amici e quindi qui non ci si dice che si è bravi il management non è che ci stia non è che ci stia tanto seguendo scusami caro ma no ma io ho detto che tolgo la corrente mi ha scherzato ti ho visto partire come un panzer ho detto prendo un po' di negoziazione il tema è che il management oggettivamente è ancora abbastanza problem searching quindi è partito c'è la campagna siamo in fase come diceva Vajlavic comunichiamo ed esistiamo non abbiamo ancora portato a casa il risultato e quindi dobbiamo insistere ed è un progetto che ha sensibilizzato benissimo citerei anche i commenti anche da parte degli altri anche telegrafici avere un po' una vostra esperienza allora è complicato oggi la gestione il tema dell'errore come diceva perché è culturalmente corretto genera innovazione in velocità lo devi saper gestire all'interno però anche di aziende tradizionali che comunque devono raggiungere i risultati e anche personalmente riconoscere l'errore non è uno dei percorsi più semplici quindi si possono sperimentare situazioni di idee generative dove l'errore è in una fase più protetta adesso penso noi abbiamo sperimentato gli hackathon maratone di 24 ore di natura creativa dove ti cimenti anche su competenze che non sono le tue allora intanto ti confronti in una libertà di poter anche sbagliare poi c'è un momento in cui tiri una riga perché è finito il periodo il momento dell'hackathon il progetto che vince deve essere anche misurato a business plan però quello è già come dire un'elasticità mentale a misurarsi sul possibile errore da lì a portarlo come fase innovativa nelle aziende non è una delle cose più semplici grazie prego il mio parere per quanto riguarda i ragazzi di nuovo perché io recentemente ho scritto un post che ha un titolo che è questo la cultura della maglia numero 10 ed è praticamente penso quindi parlando di errore e riferendo ai ragazzi che li abituiamo molto spesso è sempre solo ad avere successo e non li abituiamo invece alla possibilità di sbagliare a cosa fare poi quando hai sbagliato quindi ecco dovremmo secondo me proprio cominciare a cambiare l'atteggiamento culturale quindi non più la maglia numero 10 ma anche capire che fai il portiere qualche volta pari e se non pari prendi gol però almeno insomma hai capito di aver sbagliato hai capito che qualche cosa non è andata insomma ecco assolutamente d'accordo prego giusto a quello di prima le aule sono state già abbandonate con l'artenanza scuola lavoro perché abbiamo da qualche mese quasi 60.000 imprese anche l'Enel quindi la scuola lavoro significa tutto ciò che ha detto anche Oscar cioè mettersi in discussione antare e apprendere e pigliarsi anche da chi ascolta che deve insegnare qualcosa che sta arrivando da fuori riguardante gli errori io gli cerco gli errori però poi ne faccio una fortuna quindi da imprenditori noi siamo abituati dove sono gli errori in camere di commercio c'era un enorme errore un sistema che non andava da lì che abbiamo fatto una fortuna quindi sta in noi imprenditori che non ci preoccupa di dire accettare l'errore noi lo cerchiamo l'errore e ne facciamo una fortuna ottimo benissimo allora io ho praticamente 30 secondi e giù di lì ci tenevo però a dare la possibilità a chi ci sta guardando se ci sono delle domande ben volentieri proviamo a prenderne magari un paio altrimenti siamo in chiusura c'è qualcuno che ha qualche domanda per i nostri ospiti arrivo eccola là su ho visto vallette più belle però è bravo a salire le scale è agile con la gazzera salve veramente una domanda molto tecnica su una cosa che ho sentito dire prima dalla dottoressa Montepilli volevo capire meglio cosa sono le stanze di semplificazione di cui non avevo mai sentito parlare grazie allora stanze di semplificazione sono un progetto nell'ambito di Generalitalia nascono per creare soluzioni nella semplificazione di processi e soluzioni verso il cliente per cui adesso siamo tutti ossessionati giustamente dalla velocità dalla customer experience per cui bisogna accorciare e rendere sempre migliore la percezione che ovviamente il cliente ha di noi e il servizio che ne ottiene quindi per interrompere il metodo tradizionale in cui si analizzano questi processi sono state create queste stanze di semplificazione ognuna ha un obiettivo uno può essere una versione di dialogo in app con gli agenti altri processi di semplificazione durano dai 4 ai 6 mesi per cui impiegano anche del tempo non banale vengono prese persone da settori diversi c'è un un capoprogetto ovviamente della stanza di semplificazione e vengono messi quindi a lavorare con un metodo diverso questo del design thinking di cui stavamo dicendo prima sulla progettualità 4-6 mesi vuol dire che due terzi della propria attività lavorativa un terzo rimane quella abituale due terzi ci si dedica a questa nuova attività con modalità diverse questo non so se ha risposto completamente alla sua domanda grazie no vabbè se vuole poi dopo mi fermo e le racconto ulteriori dettagli altre domande invece dalla platea grazie ecco qua bene saluto Martini che ci siamo conosciuti 4-5 anni fa in Mediolano ad una trasmissione televisiva però voglio contestare una cosa da vecchio formatore noi propuniamo sono schiaffi oggi mi becco ok no no mi ricordo che fu piacevolissimo l'incontro perso il filo noi siamo stiamo dicendo noi come formatori propuniamo appunto la conoscenza io non sono particolarmente amante della PNL non l'ho neanche mai utilizzata ne conosco dei principi non più ma appunto prima si faceva il discorso della coscienza dell'usare con coscienza le cose quindi noi dobbiamo insegnare le cose poi se mai quando insegniamo qualche cosa uno strumento che può essere pericoloso come la PNL se mai sottolineiamo anche l'aspetto etico però non è che non dobbiamo insegnare le cose più insegniamo più insegniamo e più le persone io non ho detto che non vadano insegnate semplicemente sottolineavo il fatto che trovo più interessante che oggi colui il quale decide di occupare questo ruolo centrale nella società imprenditoriale che è quello del formatore sia sempre più consapevole lo dico da utente in questo caso del fatto che non mi aspetto più da te che tu mi offra un qualche cosa che io non so perché me lo stai per insegnare ma che tu sia quella cosa ho bisogno di vedere io un figlio guarda un genitore come un modello non come uno che sa qualche cosa più di lui non so se sono stato sufficientemente chiaro cioè è un'evoluzione del ruolo forse anche solo perché ciascuno di noi come libro cittadino oggi ha talmente tante possibilità di approvvigionarsi di conoscenze competenze con tantissimi altri canali che paradossalmente lo dico da uomo di formazione noi siamo una delle tante possibili offerte che quell'uomo ha ieri non era così c'eravamo solo noi oggi tu vai sul web e trovi tutor di tutti i tipi insegnanti se parli l'inglese puoi avere formazione in tempo reale da milioni di persone che ti sono tutte competitor qual è la differenza? che tu hai la possibilità fin tanto che sei una dimensione anche frontale di poter attivare quei canali empatici che grazie al cielo la macchina è ancora disintermediato ma continuo a dire non stiamo ne certi che saranno sempre disintermediati non sto dicendo che accadrà sto dicendo però che ho visto tecnologie applicate soprattutto dalla neuroscienza la dimensione cerebrale che mi fanno sorgere delle domande non ho la risposta ma se fino a ieri dicevo ma non accadrà mai oggi mi sento ogni tanto come quegli amici di Giulio Svern che mentre scriveva 20.000 leghe sotto i mari mentre fuori c'erano le carrozze con i cavalli o scriveva di macchine spaziali lo pigliavano in giro dicendo ma che stai a scrivere questo aveva unito due puntini poi è successo ne abbiamo sparato un sacco di cavolate che non sono successe poi dico stiamo attenti perché qualche cosa potrebbe accadere allora torno all'uomo di Tienamene noi siamo la cosa noi siamo come direbbe Delaela ma gli esseri senzienti di questo pianeta no? quindi alla formazione cosa aggiungerei in termini di coscienza una domanda tutto ciò che oggi è scollegato da domande è poco interessante il perché quello deve imparare quella cosa ma anche lo chiedo a voi no? perché voi volete insegnare delle cose delle persone perché? perché devi guadagnare ma non sei interessante perché ne sai più degli altri non sei interessante se tu mi insegni qualche cosa perché quello che mi insegni è frutto di una tua indagine personale io condivido con te la ricerca fischia è un incontro fra esseri umani non è un incontro fra uno che sa una cosa più di te quello andava bene negli anni 70 negli anni 80 negli anni 90 basta cioè il mondo ha fatto un salto vi è chiaro che il mondo ci sta facendo domande nuove che la gente nelle aule vi guardano vi fanno domande nuove non gliene fotte nulla di quello che sapete vuole vedervi chi siete il mercato sta chiedendo alle aziende di essere qualche cosa non è più il tempo di essere la migliore azienda del mondo è il tempo di essere la migliore azienda per il mondo è per quello che io partivo dall'economia che è arte di reggere e bene amministrare non paga più il vantaggio solo per sé non paga più il vantaggio per me per il mio cliente perché se non c'è un impatto sulla collettività è un impatto sul pianeta abbiamo un problema questo la gente l'ha capito io vengo in aula con te ti do otto ore della mia vita mi ci ha mandato all'azienda ho capito mi rompo le palle se tu non mi mandi a casa migliore migliore c'è come una domanda non fornite risposte fornite domande più grandi quindi tu arrivi non sai una cosa io te la insegno ma non ti devo riempire ti devo mandare a casa con la domanda come posso saperne ancora di più dove trovo altro perché ho avuto bisogno di un altro che mi insegnasse una cosa che in realtà già mi apparteneva lo rendi un uomo migliore allora avete un ruolo sociale non avete un ruolo professionale l'uno contiene l'altro ma l'altro non contiene l'uno cioè un ruolo sociale contiene la professionalità un ruolo professionale non contiene necessariamente l'aspetto sociale del ruolo non so se è chiaro questo uno può fare il genitore insegnando quattro cose o essendo un modello cioè c'è una differenza enorme scusate grazie mille no chiusura la lascio a lei perché voleva giustamente aggiungere una cosa davvero dieci secondi concordo è come passare dal sapere al saper essere secondo me e concordo pienamente non vale solo per le aziende ma vale anche per l'università nel senso che noi non solo trasferiamo sapere ma siamo dei modelli per i ragazzi quindi concordo pienamente grazie mille è davvero molto interessante io ringrazio Guido Stratta grazie per essere stato con noi Marina Montepilli Antonella Salvatore Oscar Di Montigny e Clausa Algeri grazie grazie davvero